Entrato Floer De Nitte, esce l'ultimo led. Partiti! Primi metri di gara con all'interno Palania Felix, all'esterno Polar Promenade, quindi sopra Raider, Zip, Pretoria, Floer De Nitte e Ramingo. Quando si attacca la prima piegata, la favorita al comando è Giubba Lilla, Palania Felix, in seconda posizione si apposta Polar Promenade, Giubba Blu, con in terza posizione il parocchiato di Zip, quindi in quarta posizione Galoppa sopra Raider. Quinta posizione per il numero uno dei Floer De Nitte, seguito dal compagno di scuderia di Pretoria, e chiudere è staccato Ramingo. Andatura molto selettiva quella che scandisce, ora riprende un po' in mano Guido Russo sulla curva di fondo, Palania Felix, in seconda posizione c'è Zip, quindi Polar Promenade richiesto al suo interprete con all'esterno sopra Raider, quindi si trascina anche il numero uno dei Floer De Nitte che si porta nelle prime posizioni. I tre più attesi nelle prime tre posizioni, con Palania Felix che si mantiene in avvantaggio, in seconda posizione si è portato sopra Raider, in terza cruzia ci va Floer De Nitte, quindi Polar Promenade, cioè calo secco di Zip, quindi Pretoria e Ramingo, ai 600 metri conclusivi in avvantaggio. Troviamo Palania Felix che cerca l'allungo, quando all'esterno si presenta Floer De Nitte che cerca un aggancio, quindi sopra Raider. I tre più giocati che si staccano con Palania Felix che ha in avvantaggio, all'esterno c'è lo scatto di Floer De Nitte che sta passando, Floer De Nitte nei confronti di Palania Felix che a momento tiene botta, quindi sopra Raider sull'ultima curva, Palania Felix ha messo una lunghezza e mezza di vantaggio nei confronti di Palania Felix, sulla curva scarta un po', ma ora non li mette in sesto con la frusta a sinistra, Germano Marcelli sta staccando nei confronti di Palania Felix, si arrocca lungo la corda, si sta allungando facevolmente Floer De Nitte, l'aveva detto Riccardo Melichetti che poteva vincere, ha vinto nei confronti di Palania Felix. Per la terza posizione è il numero 6 di Sopra Raider. Floer De Nitte, facile, 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 l'affermazione, andiamo a rivedere lo slone monitor dell'Ipponomo. Per l'affermazione di Floer De Nitte si gira Germano Marcelli, ma è tutto sotto controllo. Per la vittoria di Floer De Nitte che vince per la seconda posizione è Palania Felix. Per la terza è il numero 6 di Sopra Raider, 1, 2, 6, l'ordine numerico ed ufficioso. Uno sguardo alla totalizzatore nazionale, la quota di Floer De Nitte è 2,63.